Risoluzione del contratto da parte del Comune di Montesilvano nei confronti della Tradeco, società incaricata della raccolta dei rifiuti e dei servizi di pulitura. Dopo una lunga serie di lamentele da parte dell'amministrazione e proteste da parte dei lavoratori, il rapporto è stato chiuso in via definitiva, ma avvisa il Sindaco, la società dovrà continuare a provvedere alla pulizia della città fino a nuova assegnazione. Fino a quando non individueremo il nuovo gestore. Purtroppo questa decisione, che è una decisione oggettivamente estrema, si rende necessaria perché questa amministrazione, ma sostanzialmente tutti i cittadini, non sono e non erano contenti di un servizio che veniva erogato in maniera non continuativa e non all'altezza degli standard che questa città si aspettava. Abbiamo tentato in ogni modo di pungolare la società al rispetto delle disposizioni contrattuali. Quando la Tredeco è entrata nella gestione del servizio qui a Montesilvano, grossi miglioramenti non ce ne sono stati. Quindi necessariamente per tutelare gli interessi dell'amministrazione, ma anche di tutti quanti i cittadini, abbiamo risolto il contratto con la Tredeco. Adesso per trovare una nuova società come procederete? Abbiamo diverse opportunità, creare una società in house che svolga il servizio direttamente sotto il controllo e l'impulso dell'amministrazione, sia quello di prendere in considerazione la possibilità di allargare il servizio in house già attivo in città a noi vicine, ma anche quello probabilmente di fare un nuovo bando che abbia come obiettivo quello di aumentare i livelli di raccolta differenziata. Ricordiamo che a Montesilvano sono fermi ad un umiliante 22% perché solamente andando a incrementare la raccolta differenziata si possono abbattere i costi.